Formula 1 GP Ungheria 2017, le pagelle Ferrari perfetta nella strategia e nella interpretazione della gara nonostante i problemi allo sterzo di Vettel. Raikkonen si dimostra vero uomo squadra scortando il compagno fino al traguardo, pur avendone di più. A Milton appannato, restituisce la posizione a Bottasi in prossimità del traguardo accettando il gioco di squadra, le pagelle della redazione. Kimi Raikkonen X, aveva la macchina per vincere. Si è guadagnato il rinnovo del contratto insieme a una bellissima figura. . Informa come raramente accade di rivederlo. Oggi uno scudiero impeccabile come dovrebbe esserlo sempre, speriamo sia ancora così al ritorno dalle vacanze. Paul di resta 10, da commentatore tv alla F1 che non guidava dal 2013. . Il voto non può che essere da 10, ha solo un decimo in qualifica dalla prestazione di Stroll e di in gara si è difeso come ha potuto fino alla decisione del ritiro da parte del team. . Sebastian Vettel 9,5, ha guidato con cura e in condizioni non proprio ottimali. Ha vinto, ha riallungato, ha sfruttato l'occasione ungherese al meglio. . Concentrato e competitivo sempre, fenomenale nel portare a casa una vittoria sudatissima ma deve molto a Kimi, più di una cena. . . Enzo 9, sempre più showman del Circus, oramai pare abbia trovato il suo ruolo durante i weekend, in pista fa quello che può con quella macchina un telaio veramente ottimo in casa McLaren. . Primo degli altri, ma ovvio non gli può bastare a 36 anni capire il da farsi non è facile. . Carlos Sainz 8,5, reazione d'orgoglio, stavolta non viene ostacolato dal compagno di squadra, tira fuori una super partenza e che gara in un momento difficile per Toro Rosso. Aspa potrebbe prendere il posto di Palmer in Renault, a mio avviso merita un sedile più competitivo. . Valtteri botta sotto, anche se la Mercedes non va come dovrebbe lui che è sempre, a differenza del compagno Hollywood, è in lotta per il mondiale secondo l'aritmetica ma non secondo il muretto a quanto pare, merita la riconferma già dal GP di Russia. . Levis Hamilton 7, ha forzato, ha sgobbato, ha patito. E ha restituito la posizione a Bottas nel finale. Il gesto pare un eroismo persino fuori luogo, anche se non tutti avrebbero avuto il coraggio di farlo, e se perdesse il mondiale per questi tre punti da gentleman? . Kevin Magnussen 6,5, uno spiraglio di vitalità che è ancora nel danese, che esagera un po' nelle dichiarazioni post-gara nei confronti di Nico Hulkenberg. . Pascal Verlaine 6, batte il compagno di squadra ancora una volta, ma sarà lui a dover lasciare la Sauber. La meritocrazia non sempre paga purtroppo. . Stoffel Bandorne 6, un po' di luce dopo i problemi di adattamento alla compagnia dell'ingombrante Alonso. Peccato l'errore al pit stop, è arrivato un po' troppo lungo e conquista punti però. . Max Verstappen 5, ancora una volta troppo eccesso di foga, stavolta ci rimette le penne il suo compagno di squadra, ma riceve una bella tirata d'orecchie dalla direzione gara con la penalità di 10 secondi, il ragazzo sta maturando con i suoi errori, o almeno si spera. . . Lance Stroll 4, mai in gara, mai sul tracciato addirittura rischia la beffa in qualifica da un collega che non toccava un volante da ben quattro anni, speriamo che la vacanza gli faccia bene. . 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